E' sempre peggio, con l'avvento del turismo a Mestre sono venuti moltissimi turisti perché non stanno a Venezia, stanno negli BMW, negli alberghi che stanno facendo e tutto altro. Questo si verifica che fra i tram che arrivano a Venezia, quelli che partono per favolo, quello che è di Marghera e più gli autobus, ci sono dei 25 ai 35 mila persone che ogni giorno passano per di qua. I residenti di Via Lazzari nei pressi di Piazzale Cialdini a Mestre non ne possono più, la situazione dicono sta sfuggendo di mano e a farne le spese è chi vive qui. Hanno fatto una cosa che sarebbe una stazione di un paesino, non è di Mestre, Mestre comincia ad avere 200 mila abitanti e noi è da 30 anni, 40 anni che abitiamo qua, il nostro disagio è grandissimo, ci hanno levato i parcheggi e noi residenti siamo veramente bastonati. Poi adesso c'è il problema che spostano il mercato perché lo fanno a ristrutturazione, è una cosa bella, però cos'è che hanno fatto? Hanno tagliato i posti delle macchine, dei residenti o di chi vuole parcheggiare che mettono i banchetti al mercoledì e venerdì, così noi abbiamo solo a disposizione 9 posti qui davanti. Noi paghiamo un abbonamento di 120 euro in via Enaudi, Uvale, dove parcheggiamo al mercoledì e venerdì. Basta poi fare qualche metro e spostarsi nella zona di Piazza Barche dove nei giorni di mercato denuncia questo residente accade dell'altro. Al mercoledì e a venerdì c'è una pseudo banda di corte dei miracoli, cioè formata da mendicanti, zoppi, ciechi, gente con problemi psichiatrici, che alla fine del mercato sono guariti, per miracolo sono guariti, basta vanno via dal lavoro e riprendono il venerdì della settimana prossima. Anche questo deve finire. E oltretutto lì c'è anche un gruppo di alcolisti che bevono dalla mattina alla sera, partono già la mattina, sono tutte con le bottiglie in mano, fa parte anche questo del folklore mestrino, accettiamo anche questo. Guardate, questo mercato di mercoledì e venerdì si doveva spostare l'Umberto I, che era una cosa bellissima, si valutava la zona, che è dimessa in maniera proprio degradante, e invece l'hanno lasciato, lasciano tutto al loro posto, tutto quello che è. Non bastasse, c'è poi la questione sicurezza. Alla sera qui è possibile, c'è il coprifuoco, perché alle 8, alle 7, incominciano a essere gruppetti di ragazzi, va bene, spacciatori, studenti normali, che fanno le loro cose, bande di ragazzini, c'è un pestaggio, un giorno sì, un giorno no. Hanno rapinato il supermercato a 500 metri di qua, delle bande giovanissime, 400 metri.